La Corte Costituzionale bacchetta la Regione. Il Presidente nazionale del WWF, Luciano Di Tizio, commenta così la bocciatura della legge regionale sulla riperimetrazione del Parco Sirente-Velino. Esultano le associazioni ambientaliste che avevano sollecitato il Governo a rivolgersi proprio alla consulta. Abbiamo bocciato la metodologia con la quale la Regione ha operato ed è una cosa sacrosanta visto che la Regione ha giustificato questo taglio che è comunque un taglio assurdo con uno studio, tra virgolette studio perché tale non era, di 4-5 pagine, mi sembra fossero anche di meno, senza alcuna valenza scientifica reale. Il problema è che si cerca di tagliare questo parco da tanto tempo sulla spinta di piccoli interessi locali, ma è un errore gravissimo. Speriamo che la Regione adesso non commetta l'errore di riprovarci e invece prenda atto di questa bocciatura e comincia a fare una politica seria di difesa dell'ambiente. Lei ha parlato anche di possibilità di condoni edilizi o qualcosa del genere? Nella sentenza si parla di questa ipotesi, si parla di possibili condoni per abusi fatti prima e dopo l'istituzione del parco. Anche questa, alla luce di quello che è successo in questi giorni a Casamiccia, quello che succede ogni giorno in tutta Italia, io penso che i condoni edilizi siano una faccenda da cancellare per sempre nella dinamica di questo Paese. Al momento la riperimetrazione non si farà? Al momento siamo tornati al perimetro abituale, quello di prima, che è fondamentale per la staguardia dell'orso Bruno Marsicano e di tante altre specie animali. Ma teniamo presente un fatto, questa è una cosa che dobbiamo forse dire molto chiaramente. Noi non stiamo proteggendo l'ambiente perché siamo una specie buona che vuole salvare gli animaletti che ci piacciono, le piante che ci piacciono. Noi stiamo salvando l'ambiente per salvare noi stessi, perché l'uomo è una specie estremamente fragile. Si è visto col Covid, se il Covid fosse stato un po' più virulento, noi oggi staremmo piangendo metà umanità. Tornando alla legge sul sirente velino, ma la Regione cosa può fare? Sul piano di giudizio finisce qui. La Regione potrebbe riprovarci, rifare un'altra legge, magari giustificandola e motivandola meglio. Ma francamente è difficile poter pensare che tagliare un parco sia una scelta intelligente. Grazie a tutti.